bentornati su gizmo.it oggi siamo anzi è tornato a trovarci benedetto levi ceo di iglia d'italia ciao benedetto come stai ciao luca ciao a tutti molto bene grazie tu come stai bene bene grazie senti parliamo un po delle vostre rivoluzioni perché ce n'è appena stata una una seconda quindi il concetto di rivoluzione poi lo esploriamo però io vorrei partire da una cosa cioè voi mi avete mandato una palla da tennis che è quadrata e io da giovane ho giocato tantissimo quasi dieci anni a tennis ho provato a usarla per giocare ma fammi capire adesso te la passo ma perché non si gioca a tennis con una palla quadrata provaci tu impossibile ci ho provato anch'io ma ci siamo detti proprio che sono meglio le cose chiare e tonde ok abbiamo voluto rappresentare con questa pallina quadrata diciamo il mondo quadrato a cui ci contrapponiamo come avrei visto la nostra fibra e la fibra chiara e tonda la nostra ilia box il nostro router quindi è tondo e oltre ad essere appunto bello e comodo crediamo che sia una bella metafora delle cose davvero pulite chiare e senza spigoli ecco quindi pallina meglio tonda router meglio tondo fibra e offerta meglio chiara e tonda quindi alla fine insomma quando tu hai fatto vedere nel teaser qualche giorno prima della della del lancio della della fibra della linea fissa di della seconda rivoluzione che andai in giro con questa mentina la mentina molti pensavano fosse il tubo dove passava la fibra invece era e invece era la iliad box esattamente quindi sei un fine osservatore l'hai notato anche il wow era abbastanza grande senti seconda rivoluzione ti va di fare un passo indietro sulla prima rivoluzione perché congiunturalmente non ci troviamo sempre quando voi partite con una nuova rivoluzione siamo trovati anni qualche anno fa con la prima la prima rivoluzione come è andata e cosa avete imparato nel mobile molto volentieri la prima rivoluzione intanto non ne parlerei al passato ma al presente quindi più che come è andata come sta andando perché una rivoluzione che certo è partita tre anni e mezzo fa ma è ancora un fiume in pieno ancora in pieno in pieno progresso finora come è andata finora è andata molto bene sta continuando ad andare bene perché appunto il 29 maggio 2018 siamo arrivati sul mercato mobile italiano avevamo creato forti aspettative avevamo fatto annunci ambiziosi e roboanti sul fatto che avremmo fatto questa rivoluzione che sarebbe stata in primis la rivoluzione della verità della trasparenza della semplicità e della chiarezza e oggi abbiamo dimostrato dopo tre anni e mezzo come queste promesse che avevamo fatto le abbiamo tutte mantenute e questa nella sua proprio semplicità questa promessa di chiarezza è rivoluzionaria perché all'epoca avevamo proprio sentito subito prima di entrare sul mercato italiano una fortissima proprio interiore frustrazione da parte di milioni di persone che non riuscivano a capire quanto pagavano che vedevano i loro costi mese dopo mese aumentare nelle loro bollette telefoniche mobili quindi c'era proprio questa questo sentimento di cerco il meno peggio e me lo faccio andare bene abbiamo annunciato questa rivoluzione della trasparenza e oggi appunto circa tre anni e mezzo dopo sono otto milioni e mezzo le persone che fanno parte ad oggi di questa rivoluzione che è un numero corrisponde a un italiano su sette e dà davvero la misura di quanto questa rivoluzione sia stata come dire abbia colto nel segno proprio tante persone che hanno trovato finalmente quello che non riuscivano a trovare quindi è stata una rivoluzione grossa che ha coinvolto tutto il paese ha coinvolto persone davvero dire in tutta italia quindi a livello geografico demografico sociografico è stata davvero una rivoluzione di tutti ecco non è stata riservata a una piccola fetta di popolazione e evidentemente appunto ha pagato e ha portato i frutti che pensavamo avrebbe portato il fatto di parlare in modo veramente chiaro e trasparente alle persone quindi direi come ti dicevo siamo ancora all'inizio e abbiamo ancora tanta strada davanti però siamo molto contenti di com'è andata finora ecco sentire cosa che parlando dopo il l'esploit sulla parte mobile quella cosa che più mi ha colpito anzi le due cose che mi hanno colpito nel vostro atteggiamento sono state uno una chiara intenzione cioè la volontà comunque di comportarsi sempre in maniera coerente rispetto a quello che si dice e questo è una differenza fondamentale due la cultura dell'errore nel senso che comunque come in tutte le cose che partono ci sono sempre delle cose perfettibili non avete mai avuto paura né di esporvi né di metterci tu la faccia né di sbagliare e questo secondo me in maniera empatica sul consumatore ha fatto la differenza se concordi concordo assolutamente io credo che quando si è convinti personalmente profondamente di ciò che si dice di ciò che si offre al mercato sia tutto più facile perché quando sai che non è un annuncio vuoto che non hai paura di essere smentito dopo cinque minuti anche se fai annunci forti e come dicevi con intenzioni molto ben definite dette in modo molto chiaro se sai che dietro c'è un team di persone in tutti i dipartimenti nel customer care nel marketing nella rete nel legale che lavora davvero con quell'ottica quindi davvero con l'ottica di come possiamo far sì che neanche un utente mai abbia una brutta sorpresa sicuramente non perché abbiamo voluto creargliela quindi non perché abbiamo voluto nascondere qualcosa ma anche che non abbia una brutta sorpresa perché ci è sfuggito qualcosa perché abbiamo detto qualcosa in modo non abbastanza chiaro in modo e quindi quando sai che tutte le persone in illia davvero lavorano con questo obiettivo molto chiaro è più facile come dire metterci la faccia e andare a fare affermazioni forti perché non hai paura di essere smentito poi ovviamente ogni giorno miglioriamo quindi dal giorno 1 sono cambiate tante cose abbiamo cercato sempre penso non lo so le comunicazioni via mail che mandiamo agli utenti via sms quando devono magari noi non facciamo mai pubblicità o chiamate dei call center o mandare mail aggressive di pubblicità però mandiamo tutta una serie di informazioni agli utenti su quando devono ricaricare sulle tariffe in roaming o le informazioni sul nostro sito quindi abbiamo man mano realizzato grazie ai feedback delle persone a che questi in effetti non l'avevamo detto in modo abbastanza chiaro e l'ottanta per cento delle persone hanno capito in modo giusto ma un venti per cento invece ha interpretato in un altro modo ed è rimasta magari sorpresa delusa e quindi andiamo a rimettere in discussione quello che abbiamo fatto per cercare sempre di rimanere davvero coerenti a questa volontà di rendere le persone serene soddisfatte e mai come dire sorprese in senso negativo dal loro operatore quindi è un lavoro costante ma che finora diciamo è andato esattamente come volevamo direi alla grande sento un'altra cosa che a me entusiasmato fin da subito e poi è stata capita tanti dal pubblico e addirittura ha rivoluzionato anche il modo di porsi agli altri operatori anche qui avete fatto scuola sono state le simbox oggi che ruolo hanno le simbox ma hanno un ruolo fondamentale dal dal giorno uno perché hanno portato un'enorme innovazione nel modo proprio di distribuire le sim ma non un'innovazione fino a se stessa quindi invece che fare il processo manuale lo fai su uno schermo ed è divertente no un'innovazione di quelle che hanno un vero senso e una vera utilità per le persone perché la simbox ti permette innanzitutto di vedere in modo molto chiaro l'offerta ciò che stai sottoscrivendo quindi tradizionalmente un utente che va nel negozio di un altro operatore deve chiedere il documento contrattuale vederlo cartaceo leggerselo e magari non gli viene sempre fornito nella sua interezza comunque nel nostro caso della persona è da solo davanti alla simbox e può visualizzare le voci che gli interessano di più approfondirle quindi avere totale controllo e chiarezza proprio del processo di sottoscrizione e oltretutto fare tutto in modo molto più rapido e più semplice perché tipicamente invece di dover andare nel retro bottega per fotocopiare un documento di identità con la simbox basta appoggiarlo sullo scanner la fotocamera e viene scannerizzato così come l'inserimento dei dati viene avviene in modo estremamente intuitivo quindi un'innovazione che è servita a dare maggiore chiarezza a rendere il processo di sottoscrizione molto più snello rapido e meno gravoso e in generale quindi a togliere proprio alcuni delle barriere che prima pesavano pesavano sulle persone e questo si è rivelato anche questo assolutamente rivoluzionario e sta continuando a portare sui frutti e hanno anche un altro valore molto importante le simbox perché sono presenti non soltanto nei nostri corner in giro per i centri commerciali ma le simbox sono anche il canale di sottoscrizione presente nei nostri negozi monomarca no quindi anche proprio dove abbiamo uno store la sottoscrizione avviene solo tramite la simbox e questo fa sì che le persone quindi gli store assistant gli store manager all'interno dei negozi possano concentrarsi al 100 per cento nel assistere le persone rispondere alle loro domande perché tutta la parte di back office di fotocopia stampa firma cartacea archiviazione eccetera è sparita è stata dematerializzata e quindi le persone negli diazorano un solo vero obiettivo rendere gli utenti felici e spiegare loro tutto ciò di cui hanno bisogno non hanno tutta la parte appunto di gestione manuale che va a rubare tempo ed energie al servizio all'utente me l'ha detto in questi da quattro anni circa più o meno arrotondando qual è stato uno dei momenti più belli il momento che più ricordi a parte vabbè chiaramente la prima presentazione e escludendo l'ultima presentazione allora già me ne esclusi due che ti avrei sicuramente citato tra i momenti più belli senza dubbio direi più che un momento è un momento che fortunatamente ricorre si verifica abbastanza stesso ovvero quando riceviamo messaggi da parte degli utenti che ci scrivono solo ed esclusivamente per ringraziarci per dirci che sono contenti sembra retorica finta ma c'è una vera e propria raccolta di questi messaggi che arrivano quotidianamente poi noi mandiamo settimanalmente a tutte le persone di ilia da tutti i dipendenti un lo chiamiamo il gazzettino che racconta un po gli eventi della settimana cosa è successo e in ognuno di questi gazzettini sono presenti alcune delle frasi che abbiamo ricevuto in quella settimana dagli utenti ma riceviamo te lo assicuro delle dichiarazioni d'amore dei ringraziamenti delle dichiarazioni di sorpresa sono vostro utente da un anno ho guardato adesso i miei addebiti non mi avete mai addebitato un centesimo in più di quello che mi avevate promesso non mi sembra vero non era mai capitato da vent'anni a questa parte quindi ricevere non è scontato le persone di solito lo sappiamo sui social o in generale anche sulle varie piattaforme in cui si prenotano alberghi voli o ristoranti spesso vanno lì a scrivere quando hanno un problema e si capisce quindi vanno a lamentarsi a chiedere che le persone prendano l'iniziativa e passino il tempo di prendere la mail i social a volte di telefonarci al customer che è solo ed esclusivamente per dirci grazie lo trovo davvero la prova che il lavoro che stiamo tutti facendo è davvero quello giusto ecco voi siete l'unico operatore mobile e fisso adesso arriviamo sul fisso simpatico che sembra sembra quasi sembra quasi un ossimoro però è vero è così siete un operatore simpatico arriviamo alla seconda rivoluzione alla seconda al secondo step tanto atteso addirittura come detto tu l'avete anticipato per via della della grande richiesta di queste persone che scrivono ma anche di tante altre ecco in questo caso avete preso un percorso già fatto su mobile e l'avete di fatto declinato sul sul fisso ma secondo me siete andati anche un po' oltre te lo faccio raccontare da te dove siete andati oltre sono sì d'accordo con la tua analisi nel senso che siamo partiti proprio dai fondamentali fondamentali di Iliad creati e costruiti fino ad oggi ovvero ciò che ho già citato la totale trasparenza la totale chiarezza la semplicità e l'innovazione l'innovazione sul mobile era stata quella delle simbox quella di pochissime offerte molto chiare senza mille opzioni l'innovazione nel modo di parlare alle persone sul fisso tutto ciò è rimasto ma si è aggiunta l'innovazione se vuoi di prodotto e di rete quindi abbiamo voluto rimanere fedeli al tipo di offerte di comunicazione del mobile ma appunto visto che il fisso si presta e visto che il fisso ti permette davvero di entrare nelle case delle persone abbiamo voluto portare l'innovazione tecnologica a uno step ancora ulteriore e per questo abbiamo sviluppato la Iliad box quindi il nostro router proprietario noi abbiamo la particolarità proprio come Iliad di essere l'unico operatore che sviluppa 100% internamente quindi nei propri laboratori i router sia da un punto di vista hardware che software quindi proprio ideiamo progettiamo testiamo questi router in modo tale che siano davvero quelli giusti per rispondere al bisogno degli utenti non ne prendiamo costruiti da marche terze in giro per il mondo è giusto mettiamo l'etichetta lo rivendiamo lo costruiamo noi e appunto questo ci ha permesso di portare tantissima innovazione su vari fronti scherzavamo all'inizio sulla forma tonda sicuramente è piacevole avere un oggetto bello in casa piuttosto che un oggetto da nascondere ma non è sicuramente lì la principale innovazione l'innovazione senza dubbio più importante è quella della performance della velocità quindi la Iliad box ti permette noi in tutt'oggi copriamo 7 milioni virgola 4 di unità immobiliari in Italia in 1,4 milioni di unità immobiliari si può arrivare fino a 1 gigabit al secondo in FTPH che è la velocità solitamente diffusa in 6 milioni di abitazioni si può arrivare fino a 5 gigabit al secondo e questo è reso possibile dalla rete che abbiamo sviluppato in fibra e dalla Iliad box che grazie alle sue porte al suo wifi ti permette davvero di avere tanti dispositivi connessi contemporaneamente e in tutto quando si somma la banda disponibile per questi dispositivi si arriva a 5 gigabit quindi moltiplicare per 5 la velocità questa è un'innovazione tecnologica ma dall'utilità tangibile e poi la Iliad box l'abbiamo voluta innovativa in termini di semplicità quindi intanto è uno dei rarissimi router che ha uno schermo sul router proprio con il quale è possibile accedere in modo facilissimo a delle funzionalità che di solito richiedono di connettersi al software al web nel browser mentre per esempio è possibile su questo schermo vedere ovviamente si può modificare la password del wifi tutte le volte che si vuole e quando la password viene modificata automaticamente si modifica un QR code che viene mostrato sullo schermo del router e che si può scannerizzare con la fotocamera dell'iPhone per connettersi al wifi in modo immediato questo è un esempio che ne potrei fare mille altri ma la rivoluzione della semplicità che pensiamo davvero possa far guadagnare tempo e serenità alle persone che mettono in casa le Iliad box quindi questa è un po' la breve storia della fibra di Iliad tra l'altro ci tengo a ribadirlo con te i 5 giga sono dati dalla somma delle singole porte cioè dalle singole tecnologie di connettività cioè wifi più quattro porte ciascuna ha un giga a disposizione in realtà scusa più tre porte di cui due a un giga e una a 2,5 gigabit esatto quindi la somma siccome ciascuno è come se fosse collegata a un flusso in fibra ottica indipendente da 1 giga la risultanza è 5 giga complessivo se ci si connette via wifi è 1 giga se però si connette all'altra porta da 2 giga è in mezzo siamo 2 giga e mezzo esatto quindi se si connettero vari dispositivi contemporaneamente ognuno avrà 1 gigabit disponibile 1 gigabit disponibile e scusa se mi permetto di correggerti oltretutto tirandomi la zappa sui piedi ma siccome siamo trasparenti in wifi in realtà la velocità totale è un po' inferiore a 1 gigabit quindi è più dell'ordine dei 5-600 megabit al secondo disponibile quando si connette un dispositivo al wifi però appunto quindi 1 gigabit è una porta un altro gigabit è un'altra porta 2 gigabit e mezzo terza porta si arriva a 4 e mezzo e più di 500 megabit col wifi quindi in totale più di 5 gigabit domanda che ci teniamo non vorrei che qualcuno dice se hanno detto un gigabit in wifi non vogliamo fare over promise anzi grazie mille per avercelo spiegato bene ho una domanda personale e una domanda faceta ti faccio prima quella personale quanti prototipi di la box hai provato a casa perché tu ce l'avrai a casa la fibra a casa sono andato già sul modello attuale sul mercato ci sono stati tanti disegni progetti prototipi ovviamente a casa ho il modello in realtà un modello un po' camuffato perché siccome l'ho avuto un pochino prima del lancio commerciale per poterla testare però volevamo assolutamente che il disegno rimanesse nascosto fino all'ultimo e quindi abbiamo sai come i prototipi delle macchine che si vedono un po' camuffate così se qualcuno lo vede non lo riconosce quindi ho tuttora un modello camuffato a casa l'altra è più faceta cioè anche sullo sfondo che hai e anche della sigla della pubblicità perché Pac-Man Pac-Man ci piace il come dire lo spirito un po' giocoso tecnologico tra l'innovazione e la tradizione quindi ci piace proprio il mood di Pac-Man senti ci avviamo verso la fine così non ti obolto di ore di tempo oggi con questa combinazione il combinato disposto che comunque vi rende un operatore completo mobile fisso Iliad che tipo di strada sta imboccando e che tipo di orizzonte poi vedi per la società che guidi Certo, allora questa che abbiamo appena lanciato quindi la rivoluzione della fibra è proprio la seconda gamba di questo progetto il cui obiettivo finale è quello ovviamente di poter offrire alla totalità delle persone in Italia una connettività mobile una connettività fissa che siano totalmente coerenti in termini di performance semplicità, chiarezza e quindi ovviamente adesso da un lato la priorità rimane ampliare sempre di più la copertura in fibra ottica noi lavoriamo oggi con Open Fiber abbiamo firmato anche con FiberCop e quindi usufruiremo anche della loro copertura quindi ovviamente a medio termine nei prossimi anni vorremmo andare a offrire alla totalità degli italiani la possibilità di avere Iliad mobile e Iliad fibra quindi queste sicuramente oggi sono le due priorità dell'azienda in parallelo ti anticipo riceviamo una grandissima richiesta da parte di tantissime aziende professionisti liberi professionisti partite IVA aziende piccole, medie e anche grandi che ci chiedono la stessa semplicità la stessa innovazione anche per loro oggi noi offriamo soltanto una connettività per i privati tra parentesi tantissimi professionisti in questi anni hanno deciso di rinunciare all'offerta diciamo per imprese partite IVA e prendere le offerte consumer di Iliad perché comunque erano più convenienti e più chiare ma sicuramente offrire una connettività e un servizio performante e diciamo che risponda davvero alle esigenze anche delle imprese è qualcosa a cui stiamo diciamo riflettendo seriamente perché ce lo chiedono in tanti quindi in futuro non è qualcosa a breve termine perché adesso abbiamo appena lanciato la fibra ma a medio termine sicuramente qualcosa in cui vediamo un grande potenziale questo vostro posizionamento che farà chiaramente deleva dal mobile sul fisso e dal fisso sul mobile le immagino però questo posizionamento aggressivo e queste scelte coraggiose che state facendo in che modo secondo te possono aiutare a ridurre ulteriormente il digital divide e quindi a portare avanti il concetto di digital transformation dell'Italia? Ma allora io credo che sul mobile abbiamo fornito un contributo già inaspettato e gigantesco a ridurre il digital divide banalmente quando noi ci siamo lanciati sul mercato nel 2018 in media subito prima che ci lanciassimo nei momenti in cui ci siamo lanciati le offerte sul mercato offrivano 7-8 gigabyte di traffico internet al mese la nostra prima offerta ne aveva 30 e poi in questi anni noi abbiamo sempre spostato l'asticella un po' più in là e i concorrenti a seguire poi a lanciare offerte con sempre più giga per rincorrerci il risultato di tutto ciò è che il numero di giga sul mercato in questi tre anni è stato moltiplicato di 7 volte e non soltanto degli utenti ma di tutti gli utenti e banalmente pensiamo negli ultimi due anni nel 2020 in particolare nel primo lockdown il fatto di avere a disposizione 50-80 giga rispetto ad averne 7-8 quanto ha fatto la differenza quindi in generale credo che tanti giga hanno sicuramente già molto contribuito ad aumentare la digitalizzazione e io credo che anche se è più difficile da misurare in termini quantitativi ma la trasparenza delle offerte anche questa ha un grandissimo una grandissima spinta alla digitalizzazione perché quando tu hai un'offerta ma poi scopri che il giga in più è a pagamento che hai l'opzione in più che hai finito i soldi nella ricarica perché pensavi di spendere 10 e hai speso 11 quindi tutto ciò sicuramente appesantisce rallenta e allontana le persone dagli utilizzi liberi del proprio smartphone quindi sul mobile credo che abbiamo già dato un grande contributo e stiamo continuando a darlo sulla fibra credo che il discorso sia analogo quindi nella fibra nel mobile il tema era la disponibilità di giga nelle offerte ma la rete già è nazionale già c'è il tema grande della fibra non è la disponibilità di giga della tua offerta ma è la disponibilità della fibra a casa tua quindi lì quello che ridurrà il digital divide è l'ampliamento della copertura delle offerte e anche qua credo che un'offerta come quella che abbiamo lanciato possa davvero dare un'accelerata fortissima al mercato perché quando tu di nuovo abbiamo visto con tutti i casi di sanzioni di pubblicità per la finta fibra ottica ti spacciavano per fibra qualcosa che in realtà era FTT C quindi fiber to the cabinet non fino a casa e in generale la mancanza di chiarezza sicuramente ha rallentato l'adozione della fibra e più le persone adottano la fibra quindi oggi ancora tante persone hanno la fibra che arriva a casa ma non hanno un'offerta in fibra o perché non hanno mai deciso di sottoscriverla o perché pensavano di averla sottoscrivita e poi hanno scoperto che invece non era fibra quindi la nostra offerta credo che potrà far adottare la fibra a tanti che già ce l'hanno ma ancora non ne usufruiscono e poi ovviamente più aumenta la domanda e più le reti si sviluppano in fretta perché più le reti si riempiono più le aziende che sviluppano le reti hanno i fondi per accelerare la copertura quindi credo che davvero l'offerta che abbiamo lanciato possa dare questa accelerata al fatto che le persone abbiano nel più breve tempo possibile una connessione iper performante a casa grazie appunto alla fibra alla vera fibra ottica ultima domanda quando ti rende orgoglioso avere un call center tutto italiano interno Iliad che risponde veramente alle domande e non ti fa aspettare in mega giri labirinti di click numeri e codici e cose così tantissimo e credo che poi sia come dire misurabile la soddisfazione in quello che ti dicevo prima quindi nei messaggi che ci mandano le persone perché tra i tanti motivi di sorpresa e di ringraziamento e di soddisfazione c'è il fatto che le persone quando uno chiama il 177 il customer care di Iliad trova persone innanzitutto veramente all'ascolto e dal momento che il nostro customer care non vende niente non è lì per venderti la qualunque per cercare di aumentare la tua spesa è lì per rispondere alle tue domande per assisterti per aiutarti per risolvere problemi nel caso tu li avessi quindi il fatto di avere persone davvero che hanno la voglia l'obiettivo e la motivazione di aiutarti assisterti ascoltarti sicuramente è un grandissimo come dire valore aggiunto per gli utenti noi abbiamo fatto questa scelta anche questa innovativa purtroppo di localizzare il 100% delle nostre attività di call center in Italia perché crediamo che la vicinanza proprio con i vari dipartimenti dell'azienda possa anche lì facilitare moltissimo ad esempio anche il miglioramento dei processi quindi regolarmente noi impariamo come ti dicevo cose dai nostri utenti quindi quando vediamo che ci chiamano 100 persone perché avevano capito una cosa invece di un altro perché non gli è chiaro qualcosa l'informazione in pochissimo tempo arriva nel nostro ad esempio team marketing in quello che si occupa di tutta la creazione delle pagine del sito internet che in pochissimo tempo può andare a chiarire a modificare il testo eccetera perché questa informazione è come dire arriva davvero nell'arco di qualche ora non giorni settimane mesi e questo credo che alla fine si ritrovi tutto poi nel tasso di soddisfazione degli utenti grazie Benedetto grazie del tuo tempo scusami devo fare il maleducato ma arrivare la mia palla mi squadrata pronto vai eccola grazie mille grazie infiniti in bocca al lupo e niente ci vediamo alla terza rivoluzione benissimo anche prima magari se non prima sicuramente alla terza rivoluzione grazie a presto ciao a presto ciao ciao ciao